Entro il prossimo 7 luglio si dovrebbe conoscere la decisione della FIGC delegazione calcio a 5 per l'ammissione al campionato di serie B di futsal del Canicati 5 allenato da Jack Giardina. Il team Biancorosso ha chiuso il campionato al momento della sospensione per emergenza sanitaria al secondo posto della classifica della serie C1 alle spalle del Bagheria Città delle Ville promosso direttamente. Dunque in una logica nazionale che intende premiare le migliori seconde classificate i Biancorossi del presidente Vincenzo Urso hanno tutti i titoli per poter essere ammessi al prestigioso torneo cadetto. In casa a Canicati però ci sono bocche cucite e nessuna dichiarazione pubblica è stata fatta. Qualche indiscrezione arriva dal vertice federale che si è svolto a Roma al quale hanno partecipato il presidente regionale della LND Sicilia Santino Lopresti e il delegato siciliano del calcio a 5 Maximiliano Birkler. Pare che alla Sicilia sia stato riconosciuto un ruolo importante nell'organizzazione del torneo di terza serie e che dunque un ulteriore posto in Serie B potrebbe essere assegnato ad una squadra che si è distinta durante il torneo siciliano. E quale migliore team se non il Canicati potrebbe incarnare tutte le caratteristiche per poter essere ammesso nella serie cadetta? Il progetto sportivo c'è, l'intenzione di vincere il campionato e di essere promossi sul campo si è trasformata nella stagione appena conclusa. In realtà, visto che il team allenato dall'esperto tecnico Jack Giardina ha chiuso il secondo posto con due punti di distacco dal Bagheria, ne ho promosso in Serie B, ma con 5 giornate ancora da disputare. Significa che la squadra, con il qualificato roster che si è ritrovata, avrebbe potuto anche puntare alla promozione diretta.